Il risultato purtroppo non ci ha premiato, è stata una partita finita male, sicuramente potevamo gestirla diversamente, abbiamo commesso degli errori purtroppo troppo pacchiani che non si vedono neanche nelle categorie minori, errori individuali grossolani che hanno compromesso il risultato, da premettere che alla fine il risultato è giusto perché lo Juve Stabia ha dimostrato di essere più squadra di noi, quindi io direi il risultato è giusto, però a quel punto lì la vittoria doveva essere messa in cassaforte. È normale che l'allenatore si trova a dover gestire un gruppo nuovo, a giocatori che conosce poco, ha una squadra nuova quindi sta cercando di conoscere tutti, non è facile per lui anche perché Lascoli in determinati ruoli ha dei giocatori simili, in altri ruoli ha poca scelta, quindi è una squadra un po' costruita male. Purtroppo la partita di ieri ci penalizza fortemente perché la difesa era fortemente rimaneggiata e ha condizionato un po' il risultato. A Spesia dovremmo sicuramente voltare pagina e dovrebbe essere la partita del nostro campionato, nel senso che se vogliamo veramente invertire la rotta a questo campionato dobbiamo fare una partita di spessore, di livello, quindi andare a Spesia e portare via dei punti sicuramente con un gioco discreto e quindi la squadra dovrà superarsi.